Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con il nostro Balotelli a un passo dalla storia, a reti 5, a regol di competizione 39, previsioni goal... Eh che caspettate? No no, scusatemi, è orgoglioso. Previsioni goal 36 in 5 partite, nelle ultime 5 partite, grande a Balotelli, partite alla grande. Signori, siamo tornati qui per continuare la serie sul Super Mario, per la sua rinascita signori, e niente, andiamo avanti col calendario, prepariamoci alla prossima partita, che non so contro chi cazzarola sia, siamo messi bene in campionato, non c'è male, il mercato sta per chiudere, perché stiamo per arrivare al 31 di agosto, Io poi, aspettate, prima di vedere questa partita, io volevo andare a vedere il calendario, non mi veniva il termine tecnico-tattico, per capire se noi ci giochiamo qualche competizione oppure no. Sì, ci giochiamo alla fase del giorno, che cos'è? UEFA Champions League, ci giochiamo alla UEFA Champions League, non penso, contro il Famalicao, ma che competizione è, scusate? Non ho capito, che competizione è? Forse la Conference, la Conference League, signori, perché ho visto qua delle, delle, questa è l'estrazione, niente, non c'è più, ci siamo persi l'estrazione. Comunque, andiamoci a giocare la partita contro l'Antenial Sport, forse ci giochiamo alla Conference, non lo so, non ne ho più palle di idea, giochiamo da titolari, momenti salini, controlliamo Ballotelli, siamo gli attaccanti, signori, dobbiamo vincere, non esiste nessun'altra parola al di fuori di questo, vincere, dai così, decisi, rapidi e indolore, anche perché, anche perché, signori, abbiamo solo quattro anni, giusto, giusto, per, per, per portare, per riportare Ballotelli ai fasti e riportarlo in Serie A, sperando che poi a fine stagioni ci sia qualche squadritta interessante che ci, che ci, Antaglia Sport, contro la Dana, sai questo, il pubblico è contento, stiamo facendo bene, signori, eccolo lì, pronto per il tuo 45, si parte, attenzione, cross dalla destra per la Dana, attenzione, purtroppo non mi dice i nomi dei giocatori, a parte quello di Ballotelli, quindi non su effettivamente, dammela, 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 guardami, 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 ma porca, paletta ambriaca, ma è andata malissimo, al 27esimo, attenzione, ancora l'azione nostra, Ballotelli al centro dell'aria, vediamo come, come, come agirà, si scatta, lascia tutti, va a prendersi questo pallone, attenzione, Ballotelli, si vede il pallone, attenzione, Ballotelli, 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 è in area, il dribbling, Ballotelli si chiama il pazio, super, Mario, Ballotelli, dai così, signori, la sblocchiamo al 27esimo, dai, 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 bello, 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 tanta roba, punizione per loro, al 30esimo, 3 minuti dopo, siamo in difesa, dai, calma e concentrazione ragazzi, calma e concentrazione, calma, calma, tieni il tuo uomo, tieni il tuo uomo, tieni il tuo uomo, il tocco, ma che cazzarò, ma che, oh, non era il mio uomo, signori, non era il mio uomo, attenzione, calcio d'angolo, attenzione, non è che il suo calcio d'angolo, Ballotelli è letale, vediamo se mi riesce la stessa giocata di prima, attenzione, Ballotelli, va verso i compagni di squadra, si fa dare il pallone, attenzione, ancora, Ballotelli, 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 questa volta la crossa, il ballone, non riesce a allontanare definitivamente, però è ancora buono, attenzione, Ballotelli, Ballotelli, vediamo che cosa inventa, Ballotelli, 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 è lì, ancora, pallone per lui, pallone per lui, no, mannaggia a te, a tua sorella, attenzione, azione ancora di contropiede, siamo al secondo tempo, settantatresimo, azione sulla destra, Ballotelli ha un buco centrale, si fa vedere, signori, ma che, ma che missile terrarie li ha tirato, ma lo volevo vedere il replay, era un missile terrarie, bello che gli ho chiesto il passaggio in profondità, stava a sfondare la parete, chi, chi cazzo non è, aveva un parente di Holly Hutton, porca miseria, bello così, 1, 2, veloce, 1, 2, veloce, 1, 2, veloce, guardami, 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 bravo così, incuniti, incuniti, tradotto e me la di, dai, dai, bellissimo, dai così, 3 a 1, non ce n'è per nessuno, asfaltati, non so chi abbia segnato il terzo gol, però li abbiamo asfaltati, e quindi, e quindi va bene, e quindi va bene, andavano asfaltati, abbiamo asfaltati, continuo la nostra serie positiva dei risultati, per loro, 3 punti pesantissimi, dai, ha segnato fagioli, ha segnato fagioli, ma l'importante è che si arriva a guardare lo ballotelli come contento, tutto sudato, però va bene, questo è il ballotelli che ci piace, questo è il ballotelli che ci piace, il trascinatore, quello che porta i risultati a casa, grande ballo, quanto abbiamo preso? 9.9, va bene, non è male, va bene, va bene, mi sta di lusso, più 5, non abbiamo centrato un obiettivo, quale, completa passaggio, completa 5 passaggio, azzio, ormai non li leggo, nello spoiler, intanto si balla, dove si balla, fatti te ne balla, va bene, questa me la poteva anche evitare, va bene, dettagli, dettagli, allora signorini, prima cosa, ci andiamo ad allenare, io per ora mi sto continuando ad allenare sempre con gli stessi esercizi, perché va bene, poi vedremo eventualmente di cambiarli, però signorini, per ora, chi se ne frega, ci alleniamo così, andiamo un attimino anche alle attività, vittoria nel derby, ah, interessante, che vuol dire vittoria nel derby, pensa la tua prestazione, elogio e compagni, non montarti da testa, elogio e compagni, dai così, subito, dai, veloce, bello, questa mi è piaciuta, questa mi è piaciuta, abbiamo fatto squadra, signori, questa è un'ottima cosa, e al negozio, mi fa andare al negozio, grazie, grazie, cosa possiamo fare, completato, completato, disponibile, scrivete un corso di PR, acquista camice su misura, assumi l'assistente, assumi l'assistente, dai, dona denaro per i rifugiati, dai, no, questo l'abbiamo già fatto, allora, un assistente, Balotelli ha bisogno di un assistente, che gli completa tutte le cose, e lo controlla in tutte le sue azioni, poi, c'è qualche altra cosa, assumi uno stilista personale, assumi un cuoco personale, mi sembra esagerato, e un media producer, niente, però di questi non facciamo altro, anche perché i soldi, signori, stanno a finire, abbiamo due di questi, team sport, pronto, rifacciamo team sport, questo non lo posso fa, attrezzatore sportivo, non lo posso fa, posso rifare questo, attività completata, attività completata, ah, bisogna cliccarci sull'attività completata per PR i soldini, oh, ok, non l'avevo capito, e io posso rifarlo? No, non me lo fa fare, posso farlo solo una volta a stagione, va bene, non è un problema, non è un problema, andiamo avanti, dai così, chiudiamo il mercato, che non ci ha visti i protagonisti in questa sessione, non ci ha visti i protagonisti, saltiamo all'ultimo giorno, confermiamo tutte le tartative in corso verranno annullate, no, 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 tutte le tartative in corso verranno annullate, no, cosa vuol dire tutte le tartative in corso verranno annullate? Che, che, quelle che c'ho in corso io con altre squadre, forse penso di sì, perché giustamente saltano, saltano tutte, ma a me che me frega se le tartative saltano, sinceramente, ma chi se ne frega? Quaglia, quaglia, forza, veloce, rapido e indolore, dai, tanto noi siamo rimasti qua, e quindi il primo posto stagionale per un diaie, bravo diaie, aspetta, fammi allenare, porca di una paletta ambriaca, dai, 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 abbiamo sbloccato delle attività, allora, andiamo a stimolare tutto, perfetto, dai, è così, Montella è sempre più contento di noi, e anche noi lo siamo, perché stiamo facendo bene, andiamo a vedere le attività, dovrebbero essere arrivati un po' di soldi, se non sbaglio, eh, scade fratelli dei giorni, sei il giocatore del mese, eh, 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 pontiamoci un poco, non è finita qui, merito della squadra, siamo sempre molto, molto, così, molto tranquilli, non elogiamoci troppo, signori, questo l'abbiamo fatto, dai, è così, e poi, investimenti, abbiamo due nuovi investimenti, disponibile, in corso, ma scusa, ma io non avevo, attività complessa, ah, app per il cellulare, ok, fondi, sono arrivati tanti altri bei soldi, ottimo, ottimo, possiamo rifare il team sport, signori, ma io mi faccio la linea di abbigliamento, rischio medio, 150, dobbiamo andare in prestazione, 45 giorni, dai, è così, ancora, la linea di abbigliamento, signori, app per il cellulare, anche no, anche perché non me lo fa rifare, perfetto, scusa, decisioni, cos'è che mi è rimasto, nuovo, ah, chi l'aumento di ingaggio, no, 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 Balotelli rimane umile, signori, Balotelli rimane umile, non lo vogliamo l'aumento di ingaggio, non lo vogliamo, non ce lo meritiamo, signori, ancora non ce lo meritiamo, ok, questo video si completerà con la prima partita di Conference League, forse, dai così, non ci interessa, per il confronto, uh, il Fenerbahce, concentriamoci sul Fenerbahce, signori, ci servono questi altri tre punti da portare a casa, veloci, rapida e indolore, dai, su, 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 che ce la famo, ce la famo, ce la famo, signori, ce la famo, è il nostro Balotelli, deve continuare a spingere, ok, siamo a casa nostra, c'è solo uno spicchio giallo del Fenerbahce, ma non ci interessa, noi dobbiamo guardare il nostro, la donna sport, Balotelli con le sue scappette rosse, il calcio inizia, la partita inizia, attenzione, uh, in vantaggio già loro al 35esimo, porca miseria, non mi gioca anche l'azione di, va bene, devono, dovevano, devono per forza essere in vantaggio loro, siamo un attimino coperti, guardami zì, bello così, guardami zì, Balotelli, 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 accelera, Balotelli, fallaccio, fallaccio, ci provo signori, Balotelli ci prova, Balotelli ci prova, attenzione, Balotelli ci prova, ce la facciamo così, penso di sì, Balotelli ci prova signori, Balotelli ci prova la punizione, attenzione, agitare la barriera, per metto comodo il portiere, porca miseria, troppo sul portiere, al 39esimo, per attenzione, contropiede, della Dana Sport con Balotelli, uno contro uno con il difensore centrale, Balotelli stoppa la palla perfettamente, si allarga sulla destra, si porta fuori l'uomo, Balotelli non è velocissimo, nessuno lo va a aiutare al centro, al centro dell'aria, attenzione, c'è il momento del compagno, pericolosa, bravissimo qui, porca miseria, al 45esimo, attenzione, contropiede, azione della Dana Sport, dell'azione del Fenerbahce, scusatemi, perché sono completamente in difesa io? Bello, così ripartiamo, ripartiamo, ma, mannaggia tua sorella, occasione grosse per la Dana Sport, dai, dove sono? Sono, sono in difesa dall'altro lato, non ti arriverò mai, dai così, il ballo, il ballo, il ballo, il ballo, il ballo, eh porca miseria, stavo, stavo caloppando, no, è finita, scoprita di fronte al proprio pubblico, ah, ma dai, non, non, mi danno un fastidio queste partite così, prima sconfitta, però l'accettiamo, prima sconfitta per la Dana, Demi Sport, Balotelli non ha avuto grandi occasioni, infatti vedete, demoralizzato, corsa, scavolata di Balotelli, che ha preso, non è nemmeno tra i primi tre, vabbè, niente, è andata così signori, prima sconfitta stagionale, per 1 a 0, nei confronti del Fenerbahce, abbiamo fallito tutti gli obiettivi, ottimo, ottimo, mi ha preso un meno 15 da parte di Montella, bene così, non fa niente, incavolatissima Montella, però va bene, questo, eccola lì, ci siamo signori, esordio, non so che cazzola di competizione, signori, penso sia la Conference League, per forza, penso di sì, penso di no, non lo so, mi posso allenare? Alleniamoci, alleniamoci, e così ci prepariamo alla partita, alla partitonza, dai, avanza, andiamo alla partita, signori, andiamo alla partita, se qualcuno sa che il prossimo incontro, fa da Geronistà di Europa, ma di che? Europa? Che c'è scritto là? Sì, Conference League, signori, mi sono dovuto avvicinare allo schermo, perché che cazzola di competizione era? La Conference League, signori, fase a Gironi, Balotelli premiato come giocatore del mese di agosto, bella, è proprio il mio Balotelli, che mi sorprende così, andiamo a giocare con Balotelli, sì, sperando che, abbiamo un po' più di fortuna, rispetto alla partita contro il Fenerbace, perché dico, era veramente, è stato veramente assurdo quello che è successo, però, però, va bene, però, accettiamo anche questo, le sconfitte ci stanno anche lì, esordio in Conference League, per la Dana e per Balotelli, attenzione, lo stadio è carico, siamo a casa nostra, ed è scontato il girono, eccola lì, Conference League, come sempre c'è Daniela Dana, dai, ce la lasciamo a fare, vediamo di fare un bel percorso in Conference League, vediamoci l'entrato, vediamo, guarda lo Balotelli, è carico, è carico, lui è abituato, da stoccare grandi terreni di competizioni, continua la votazione a D7, segna meno un gol, con rete a due passaggi, due passaggi possiamo anche riuscire a completare, ci siamo a ramare soffredo, ci servono i tre punti, più che gli obiettivi personali, ci servono i tre punti, l'occasione di Cosmo, ma io che è schermata enorme, l'occasione di Cross, ci sono da solo in aria, basta, me lo zio, Balotelli, Balotelli si gira il balo, Telli, gol della Dana, dai così, che cazzolaziazza ne è stata, signori, c'era da solo in aria, bellissimo, mi sono semplicemente girato su me stesso, per levarmi da mezzo ai piedi il difensore, va bene, va bene, ogni tanto una botta così a Dana, demi-sport in contropiede, attenzione, palla nella metà campo della Dana, Balotelli è partito in velocità, Balotelli è partito in velocità, ne fa fuori due, Balotelli si scorda il pallone, Balotelli si è completamente scordato il pallone, dai così, dai così, dai così, dai così, si mannaggia, ho tentennato per un attimo, occasione ancora nostra, all'ottantacinquesimo, signori, occasione ancora nostra all'ottantacinquesimo, calma, 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 guarda, mi guarda, mi guarda, ho bisogno di fare due passaggi per completare l'obiettivo, grande così, dai così, 2 a 0, bella così, abbiamo fatto anche l'obiettivo, perché ho fatto due passaggi, mi hanno fatto fare tre azioni, sono riusciti a fare due passaggi, bella così signori, ce la portiamo a casa? c'è la portiamo a casa, a giugnare, dai, mi gusta, mi gusta, mi gusta, molto molto carino, molto carino come situazione, ci sta, ci sta, tutti che si abbracciano, il balotelli è contento, ha fatto il primo gol, dai così, esordo in conference league, positivo, positivo, 2 a 0, quanto abbiamo preso? 9.4, non mi lamento per niente, 9.4 è tanta roba, che squadra ci sono? il Copenhagen, il Renz, abbiamo fatto tutti gli obiettivi, bravo, Montella ci dà un più 15, ci mancano 17.632 punti per salire a livello 2, va bene, va bene, lavoreremo piano piano signori, gradino dopo gradino, balotelli tornerà, ai fasti che gli aspettano, allora, mi posso allenare, non penso, perché ci siamo allenati l'altro giorno, infatti, possiamo spendere soldi, perché balotelli con troppi soldi in tasca non ci sa stare, investimenti, ah, possiamo rifare l'app per il cellulare, mi sembra un po' premoduro, 30 giorni, 50.000, rimaniamo con 60.000, ma sì, ma chi se ne frega, i soldi ce l'ha, il balotelli, dai così, tra un po' che arriva il nuovo stipendio, e andiamo avanti, dai, porca miseria, subito alla prossima partita, contro il Casimpasa, vediamo un attimino la classifica, se non è per questo video, ci fermiamo qua, siamo secondi, ok, siamo secondi a 16 punti, con una partita in meno però, ok, abbiamo una partita in meno a 16 punti, va bene, va bene, e vediamo un attimino invece la classifica calciatori, vediamo il nostro Balotelli, dove sta ammesso, siamo terzi, con 6 gol in 7 partite, che poi effettivamente siamo secondi, a pari merito con Okaka, c'è anche Gio Pedro, Alfenerba, c'è 6 gol in 6 partite, Mertens, Alcalata Sarai, 3 gol in 7 partite, dai, 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 Luisa Adriano, però dai, un bel, un campionato particolare, quello turco, pieno di bei giocatori interessanti, va bene signori, detto questo, io vi ringrazio, ho guardato questo video, noi ci fermiamo qui, abbiamo portato a casa due vittorie, una sconfitta, l'esordio in Conference League, che ci sta bene, e il percorso continua, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i seguimenti, per il supporto, e noi ci vediamo sempre qui sul canale, per un prossimo contenuto, bella raga, ciao, 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 Grazie a tutti.